Lui ti fa soddisfatto. Guardi che fai un'olivina e poi ti dici aspettandoti che lui abbia un'olivina. E la grande, molto soddisfatto e la mangi. Deliato. Ora facciamo che lui arriva e vi vede e si stoppa. Lui che si avvicina, sbatte la testa, si vede che va in giù e poi, da quella prospettiva, soltanto i filini che finiscono. Ci facciamo la taccarcetta? No. Arrivi qui e fai tu e vai giù, così. Cosa? Qual è? Il pulio di schieno. E... azione! Vai! Vai!